In questo video saranno presentate le aziende che hanno ospitato gli allievi di Quarta Automotive in occasione del progetto Alternanza Scuola-Lavoro. Buona visione! Allora Quinto, io parto e vado a trovare i ragazzi di Quarta B che stanno facendo questo percorso di alternanza scuola-lavoro. Ok? Tanto tu prepara qualche cosetta che quando torniamo... Quando torniamo ci pensa a lui. Bene, allora partiamo per questo giro. Andiamo a trovare i ragazzi che gentilmente 14 aziende del nostro territorio hanno ospitato in modo che possano compiere il loro percorso di alternanza scuola-lavoro e speriamo che queste ditte siano soddisfatti della preparazione dei nostri ragazzi. Vi andiamo a salutare e ci sentiamo poi a termine di questo viaggio. Un saluto a tutti, ne? Ciao! 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 ciao a tutti! Ciao! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti! questo